di nuovo sul white paper di 10 pagine a qua ci fa anche una comparazione con i competitors che chiaramente vi lascio fare a voi direttamente altrimenti ci annoiamo in questo video allora torniamo un attimo sul sito ufficiale andiamo a vedere il team il team è importante molto spesso importante anche a volte non è tanto importante però se c'è è una buona cosa qui parliamo del team con i vari profili linkedin che se andiamo a vedere sono esistenti attivi e esperienze registrate su vari profili ecco qui si può andare a vedere andiamo un attimo sulla pagina principale allora questo è John Kinsey professional trader trader professionale con un'esperienza molto spesa nel rischio manageriale con praticamente un aspetto di tecnologia ecco vari aspetti infine non sto qui a elencarveli tutti altrimenti vi annoierei ma potete andare a vedere qui andando sul sito principale abita.com slash it e andate su team e vi andate a spulciare tutti se volete poi andando qui in fondo ci sono anche i vari social facebook twitter e i canali telegram e gruppo poi se ne andiamo su documents troviamo i documenti che vi ho fatto vedere il white paper una pagina sarebbe questo qui poi torniamo un attimo indietro il white paper 10 pagine termine e condizioni e poi il white paper 69 pagine in inglese allora come vi chiederete il costo di ogni arbitrao quanto sarà praticamente sarà di 9 centesimi al prezzo attuale praticamente 0,000015 bitcoin vediamo qua che lo dice in m bitcoin che è una ciao ciao Grazie a tutti